Bella ragazzi, e allora eccoci qua con un altro bel video parliamo di un metal detector, uno dei migliori metal detector professionali nel range dei 200 euro eccolo qua il Golden Mask One Black qualcuno mi ha chiesto di un consiglio su un buon metal detector già professionale e questo è già professionale, di alta gamma, di alto rilievo molto potente e sensibile e dopo vediamo anche un po' come funziona adesso come composto, batteria litio ricaricabile col suo caricatore da ottima potenza e ottima corrente per grande campo magnetico potente e fitto per rilevare bene gli oggetti questo è un metal detector che viene 240 euro e inoltre c'è anche l'asta in carbonio telescopica che si riduce sui 65 cm tastiera molto facile da utilizzare e intanto vi ricordo di iscrivervi al canale perché al sito metaldetector24.com avete un buon sconto eccezionale e vediamo anche come si utilizza questo bellissimo metal detector io l'ho già allungato con la sua asta telescopica accensione guardate che bellissimo display grafico dal display grafico si capiscono tante cose ha lo stesso display grafico del GM6 e del GM7 ecco perché è già professionale e molto utile da utilizzare con regolazioni di adesso ho acceso anche la retroilluminazione del display regolazioni di discriminazione spingendo i tasti più e meno e vedete la lancetta che si allunga e si accorcia per discriminare di più o di meno poi semplicemente con i quattro comandi si va nel menu vedete con regolazione del tipo di frequenza per avere il tipo di frequenza più stabile nell'ambiente che siete è anche un multifrequenza ma a scansione di qualche kHz da una frequenza all'altra da un passo all'altro e uno lo sceglie poi c'è la regolazione del guadagno che si regola in base al posto all'ambiente che siete vedete qui siamo al massimo e lui è stabilissimo poi ha il volume del ferro l'iron volume che di solito consiglio di regolarlo basso così sentite meno rumore nel caso trattasi di ferro e il volume e il volume generale che va tenuto al massimo perché è da 8 in su parte anche un booster che amplifica ancora di più il segnale sul display inoltre tutto vedete la carica della batteria vedete quando è accesa la lampadina vedete la scala dei tipo del metallo faccio faccio enter che lui automaticamente si bilancia in aria e nel terreno in modo automatico adesso guardate che spettacolo guardate che spettacolo passo con un anellino d'oro dice il display in alto a destra e vi fa vedere il display grafico dell'oro una bella piramidina passo con l'anellino d'argento e guardate si dispone il display grafico a destra sempre con una bellissima piramidina e un WD più alto passo con un euro e di nuovo c'è la piramidina se io ci passo adesso guardo se ho della robaccia ferrosa questa è una scatoletta cadmiata vedete che nel display grafico fa vedere il grosso della scatoletta ma tutti quanti i valori laterali fa vedere che è un materiale composito perché si allargono ai lati ma specialmente se è ferro arrugginito si spandono lungo tutto il display delle barrette che ti indicano con l'esperienza che è ferro ferraccio arrugginito ora già che ci siamo un metal detector da 240 euro unico al mondo col display grafico WD retroilluminazione super batteria potente al litio una bellissima aste in carbonio telescopica tutta in carbonio regolabile la nuovissima bobina 11x13 di settima generazione Spider S Fichter S guardiamo anche la sensibilità qui siamo sì vedete quando faccio si bilancia nel momento in cui si trova e rimane sempre bilanciato vedete moneta da 50 centesimi la spizzica già a 32-33 centimetri e sentite che stabilità che ha questo metal detectorino è un gioiellino la spizzica 32-33 centimetri guardiamo anche gli annellini questo è un annellino piccolissimo che non va neanche dentro nel dito d'argento 25 centimetri moneta da 1 euro 30 centimetri ecco guardate i tanti video che trovate in giro che si fanno le prestazioni anche nel terreno e perde pochissimo nel terreno annellino d'oro guardate come lo sente bene come lo tocca bene lo sente addirittura a 30 centimetri come le altre monete sensibilità eccezionale un gioiellino 250 euro tutto quello che vedete questo bellissimo metal detector e guardate anche che fa la linea contattatemi lo potete ordinare al sito metal detector 24.com questo bellissimo metal detector prezzo qualità potenza eccezionale golden mask gm1 black ciao a tutti e ai prossimi video